Ciao, sono Gamaria Nionsava e sono il fondatore del sito permessodisogiorno.org. Da oltre 12 anni ci occupiamo di domande inerenti al rilascio, al rinnovo e alla conversione dei permessi di soggiorno, tutti i tipi. Ci occupiamo anche di domande inerenti alla cittadinanza italiana, dalla richiesta fino alla verifica dei requisiti, alla verifica dello stato della pratica. Ci occupiamo di tutte le possibilità di regolarizzarsi per vivere meglio sul territorio italiano. Ci occupiamo anche di consigli inerenti alle possibilità di andare a vivere e lavorare in altri paesi europei e non solo. Possiamo aiutarti in poco tempo tramite assistenza e consulenza che puoi prenotare subito. Prenota sui link che troverai qui. A presto!